Concordo sul voto favorevole come gruppo fatto dal consigliere Stefano, non concordo nel merito di ciò che ha detto il consigliere Stefano, mi sembra opportuna la precisazione rispetto a quello che è invece il contenuto della mozione, che trovo corretto, perché credo che siamo chiamati tutti a difendere in qualche maniera questa città e far sì che vi sia rispetto per la stessa nel momento in cui vi sono così importanti risorse che arrivano dall'Europa per poter sviluppare le infrastrutture e la città tutta. Di conseguenza volevo consegnare il voto favorevole, poiché nel merito la mozione non parla del percorso che ha fatto Roma, ma in realtà parla di alcune opere importanti, prolungamento Metro A, B, C, Roma Fiumicino ed altre opere e condividiamo i contenuti della stessa. Grazie.